Il calo è generalizzato, peggiore il giudizio dei cittadini nei confronti di gran parte dei governatori italiani ad esclusione di tre presidenti di regione che registrano un dato in controtendenza. Cresce il consenso rispetto al 2021 del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del collega del Lazio Nicola Zingaretti e soprattutto del Lombardo Attilio Fontana che recupera ben 10 punti rispetto allo scorso anno. I numeri sono quelli di SVG, 10.000 interviste a campione tra febbraio e aprile e la Puglia non fa eccezione. Secondo il report in questione infatti Michele Emiliano perde ben 8 posizioni in 12 mesi, le stesse che perde l'Umbra Donatella Tesei. Male anche il siciliano nell'Umusumeci, nel pieno del braccio di ferro con gli alleati sulla ricandidatura lasciando i primi due gardini del podio al tandem bipartisan formato dal leghista Veneto Luca Zaia e dall'emiliano romagnolo Stefano Bonaccini, positivo l'esordio in classifica del calabrese Roberto Occhiuto alla sua prima rilevazione trend uniforme in compenso forse dovuto al riassetto post pandemia nei due anni segnati dall'emergenza. Infatti le opinioni dei cittadini su quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni erano migliorate sensibilmente. Stavolta tornano a moltiplicarsi i fattori di valutazione sull'efficacia dell'azione di governo con tanto di termometro sui prossimi appuntamenti elettorali.